Preghiera del mattino Dio di infinita maestà, creatore dell'universo e di ogni singola anima, tuo figlio ha rivelato agli apostoli il tuo disegno sull'umanità. Attraverso gli apostoli e i loro successori, il collegio dei vescovi, guidaci verso la sola verità che può renderci liberi e uniti in Cristo, che vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.